Buongiorno a tutti, io sono Carlo Nati, sono un insegnante di scuola media superiore e insieme alla dottoressa Giannini ci siamo occupati di coordinare il campione italiano che è stato utilizzato per questa rilevazione internazionale. È chiaro che i riferimenti giuridici alla compensazione o al fatto di colmare lacune di tipo di integrazione nel mondo del lavoro fra uomini e donne fanno riferimento a una normativa tipo sovranazionale, normativa costituzionale, quindi diciamo da un punto di vista gerarchico alle normative più importanti. La normativa sovranazionale già da alcuni anni ha tentato di esprimersi in favore di quella che può essere una completa integrazione delle donne nel mondo del lavoro. Fino al nuovo testo che è stato introdotto nella Costituzione italiana non si faceva mai riferimento ad un approccio di tipo culturale. Quindi nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione invece oltre a cercare di colmare quello che è il gap per l'inserimento nel mondo del lavoro fra uomini e donne, si fa un riferimento di tipo culturale e questo è molto importante perché noi facciamo parte della scuola e quindi quello che è interessante dal nostro punto di vista è quello di colmare delle lacune di tipo culturale, specialmente per quanto riguarda l'orientamento, anche perché da un punto di vista scientifico, questo l'ha ripetito anche la dottoressa che mi ha preceduto, non c'è nessuna differenza di approccio in termini di tecnologie oppure in termini di scelte operate a livello di iscrizione all'università, se non da un punto di vista culturale. È chiaro che per quanto riguarda gli obiettivi sovranazionali quindi della comunità europea è molto importante che vengano ad essere incrementate quelle che sono le iscrizioni nelle facoltà scientifiche e tecnologiche nei prossimi anni. Questo è un obiettivo molto arduo e specialmente per alcuni paesi della comunità europea dove in effetti la parità tra uomo e donna ancora è difficile da vedersi anche nel mondo del lavoro. E quindi proprio per cercare di colmare questo gap che è fondamentalmente di tipo culturale, il rapporto della Commissione Rocarca del 2007 alla terza raccomandazione ha suggerito che si deve prestare particolare attenzione alle ragazze. Va stimolato e promosso il loro interesse verso le scienze e ha cresciuto la loro sicurezza e autostima rispetto all'apprendimento scientifico. Questo che vuol dire? Vuol dire che in effetti all'interno delle scuole e all'interno delle famiglie che sono i due istituti che condizionano di più gli studenti c'è ancora una differenza nel trattare i ragazzi e le ragazze da un punto di vista culturale. I ragazzi vengono avvicinati alle tecnologie, le ragazze vengono avvicinate, e questo lo vedremo dalle statistiche che riguardano per esempio le iscrizioni alle scuole secondarie superiore, a un certo tipo di istruzione. È chiaro che poi questo provoca delle ripercussioni nel momento stesso in cui ci si iscriverà all'università o si sceglierà una carriera per il proprio futuro. Allora la Commissione Europea ha commissionato questo libro bianco, le direzioni generali interessate erano istruzione, formazione, cultura e gioventù, società dell'informazione e mezzi di comunicazione, ed è stato commissionato ad una serie di enti che sono European School Net, Insight e Cisco, che in effetti ha investito molto in questa ricerca. I presupposti quali sono? Il presupposto fondamentale è che l'Europa deve affrontare un ampliamento delle competenze nelle ICT. Le ICT sono fondamentali per aumentare la competitività e lo sviluppo nella società della conoscenza, questo l'han detto tutte le persone che hanno parlato prima qui. Però è stata rilevata una scarsa rappresentanza delle donne nei posti di lavoro connessi con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi l'assunzione di più donne potrebbe contribuire a colmare questo gap. Gli obiettivi della ricerca sono di esaminare l'atteggiamento delle ragazze e dei ragazzi nelle scuole secondarie nei confronti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, analizzare le potenzialità offerte dal settore in termini di carriera e verificare se ci siano differenze di genere attitudinali o di percezione delle ICT, cioè di rappresentazione di quelle che sono le ICT per quanto riguarda le studentesse. È chiaro che un altro obiettivo era di analizzare i modelli sociali di riferimento, questo in relazione all'orientamento didattico e professionale, analizzare gli stereotipi e elaborare alcune raccomandazioni di base. Lo studio è stato condotto in cinque paesi, vedete Italia, Polonia, Regno Unito, Paesi Bassi e Francia e tre sono stati i gruppi di entrambi i sessi che sono stati oggetto dell'indagine campionaria, il gruppo degli studenti, il gruppo degli insegnanti e il gruppo dei genitori. I primi risultati, è chiaro che le ragazze generalmente sono attirate dalle ICT, si divertono a utilizzarle e sono utilizzatrici competenti di computer e sistemi operativi, quindi è chiaro che non esiste alcuna differenza nell'approccio e questo in particolare nelle generazioni più giovani. Dovevo sottolineare che la fascia d'età che è stata esaminata è quella dai 15 ai 18 anni e l'influenza dei modelli di riferimento, vedremo, è un'influenza che critica perché i genitori di questi ragazzi ancora subiscono le influenze di quella che è una cultura digitale che non li ha visti coinvolti appieno. Se noi ripetessimo questa indagine sui genitori dei bambini che frequentano oggi la scuola dell'infanzia i risultati sarebbero profondamente diversi. Nonostante questo approccio positivo delle ragazze nei confronti dell'ICT, la maggior parte delle ragazze abbandona gli studi in questo ambito dopo l'istruzione secondaria e questo può essere attribuito in parte ai seguenti motivi. Una mancanza di un contatto diretto con modelli specifici di riferimento, opinioni stereotipate e persistenti, una scarsa conoscenza delle tipologie di lavoro che afferiscono l'ICT. Questo è un grafico che fa vedere come le ragazze tra i 15 ai 18 anni sono attirate dall'ICT, a loro piace utilizzarle, però vedete che già in quest'età, per quanto riguarda l'Italia per esempio, un 50% del campione nonostante sia favorevolmente attirato dall'ICT non ha intenzione di proseguire gli studi in questo ambito. Questo fenomeno è meno visibile in nazioni come l'Olanda, l'Inghilterra e la Francia. In ogni caso una buona percentuale delle ragazze intervistate pensa che le ICT siano più adatte agli uomini. Quindi c'è una rappresentazione delle ICT che è condizionata da un fenomeno culturale di tipo generale. Che cosa vorrebbero scegliere le ragazze che sono state intervistate? Vedete che per quanto riguarda la prosecuzione degli studi in senso universitario, le lingue straniere, la letteratura, sono privilegiate. Quindi che cos'è davvero importante per le ragazze? Allora è uno degli elementi che, ripeto, è una costante sia del senso comune che degli approfondimenti scientifici è che alle ragazze piace lavorare con le persone anziché con le cose. Piace aiutare il prossimo. E quindi vedete che se noi facciamo riferimento a quelle che sono le iscrizioni nelle scuole secondarie di secondo grado, noi comunque già in una fase precocissima, che è quella dei 14 anni, abbiamo una canalizzazione verso certi tipi di attività. La percentuale delle ragazze iscritte agli istituti magistrali, oggi socio-psicopedagogici, è quasi dell'85%. Quindi c'è una canalizzazione precoce verso un certo tipo di attività che è per esempio l'attività degli insegnanti dell'infanzia e della scuola primaria.